Ho preso con entusiasmo questa decisione da parte del Comune che mi è stata proposta di riportare il premio a piazza di Andrea Lamagliana, perché con rammarico l'abbiamo un po' lasciata, perché dovevano ristrutturare la piazza e quindi non era più idonea nel momento in quegli anni mentre stavano lavorando e poi perché c'era una partubazione piccola e allora siamo andati via. Questo ritorno mi riempie di gioia e ho la sensazione che riempie di gioia anche a chi vive qui e non solo, anche perché è la sua natura questa, rappresenta veramente il pensiero di Fabrizio e non si confondo con altri posti anonimi, quindi ovvio che sono felicissima di essere tornata qui e dell'entusiasmo che anche il Comune ha dedicato a questa operazione.